Dopo lo strepitoso successo del film Avengers Endgame arriva Avengers Endgame effetto vita istantanea Iron Man carico e vivo Attacca la batteria alle altre figure compatibili per farle tornare in vita Non sono un eroe deficiente Con la batteria attaccata l'eroe ritornerà in vita Hulk spacca Oh cazzo c'è Thanos Avengers Endgame effetto vita istantanea Fa male di a**o Le batterie della batteria non sono incluse nel prezzo Chiedete prima ai vostri genitori perché vanno infilate su per i sedeli Non a caso ho un giocattolo Asbro Grazie per la visione